Ciao e bentornati sul canale! Io sono sempre qui eh! Oggi Puffi! L'hai letto Smurf prima! Smurf Puffi! Ah ecco, l'abbiamo rifatta perché qualcuno ti ha interrotto. Allora, lo apro fuori dalla fotocamera perché è tutto sbriciolato, vi giuro. Ehi, nobile perché è sbriciolato? Perché stavamo facendo la recensione precedente e tu l'hai martorriato di cazzotti quel povero vetto. Vero? Allora, c'è un pezzo di carta. Ah vero, rispondi, vero? Sì, sì, vero. Allora, mettiamo nel sacchetto con tutte le uova. Qua abbiamo la cartina. Allora, vediamo. Vediamo. Allora, prima di tutto guardiamo la checklist. Checklist. Allora. Raga, ma questi sono belli tanto! Aspetta, che è un po' spiegato. Raga, ma che belli! E ce ne sono due che si illuminano al buio. Ma di che? Fa vedere. Hai detto la parola in una magica. Puffi. Illuminano al buio. Puffi, solo statuine sono. No, non ci posso credere. Che si illuminano al buio. Ah, Zaini si è superata stavolta. Vediamo. Solo statuine e due si illuminano al buio. Bello, 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 bello. Raga, ma questo è da ricomprare. Questo assolutamente è da ricomprare. Insieme al Chupa Chups, sempre dei puffi che avevamo preso. Però sai che questo è più bello? Perché quella, quegli altri. Questa poi è la tua espressione al mattino. No, ma quegli altri erano un po' più di gommina, un po' più morbida. Invece questo è proprio... Bello, 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 compimento. Proprio dura. Bello. Ma tra tutti quale avresti voluto. Allora. Non è brillo al buio, è trasparente comunque. Ah, vabbè, sbagliato. Non lo so, magari brillo anche al buio, eh. Sbagliato, vabbè, se sono trasparenti mi sembravano un po' brillo al buio. Comunque, o quello è trasparente o barbapuffo. Barbapuffo? Come si chiama il capo di Puffi? E' sbagliato, ho fatto un mix tra barbapapapà e Puffi. Grande Puffo. Grande Puffo. Che parla Puffo? Ho fatto lui, per precisione. L'unico con il cappello rosso. Se si mette a fuoco magari fa anche un favore. Ecco. Ne abbiamo trovato lui, io voglio lui. Ma in realtà sono belli tutti, cioè non mi cambia nulla trovare qualcun altro. Mi piacciono tutti, sono tutti belli. Guardate che bello. Cioè raga, ma questo si merita anche un bello otto. Otto e mezzo. Ma anche, cioè nel senso, perché comunque non è come le altre sorpresine, perché prima abbiamo aperto altri ovetti simili. Negli altri si trovi una statuina, puoi trovare una statuina, ma puoi anche trovare altre sorprese. Invece qua ci sono solo statuine e ci sono perfino quelle speciali. Bravi, bravi zaini. Dovete andare, noi vogliamo che voi cresciate sempre di più per andare a confrontarvi con la Kinder e con le sorpresine Kinder. In modo tale che noi, collezionisti, possiamo cominciare a collezionare bene anche le cose con i puffi, perché tutte le cose con i puffi vanno le statuine belle. E soprattutto se riuscite, statuine, no anelli, no bracciali, statuine, personaggi, cose di questo tipo che a noi collezionisti piacciono tantissimo. Collezionisti e bambini che ci vogliono giocare. Non sono un bambino, ma fa niente. E comunque questo mi è piaciuto molto di più del Chupa Chups che avevamo aperto. Che era bello anche quello. Dei puffi, ma perché loro erano fatti un po' di gommina più morbida, infatti quello lì aveva tipo lo scettro, una roba così che si era piegata fra un po'. Sì, vero. Era un po' piegata, invece questa è proprio plastica dura, fatti bene, fatti bene. Torneremo a parlare degli uvetizzani e dei puffi, sicuramente. E dei puffi sicuramente, perché sono molto belli. Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like, condividere, commentare, schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video. E come sempre. Noi, bisous, ciao.